Da nord a sud l'anticiclone subtropicale del Sahara ci farà sentire tutti i gradi che porta con sé e sono 40 e non finisce neanche qui perché la percezione del calore sarà ancora più alta fino a 42 gradi centigradi. Procediamo con ordine però. Si parte domani dalle isole e dal meridione con un'impennata della colonnina di Mercurio fino a 36 gradi. Arriverà nel primo pomeriggio al centro e poi al nord dove i 36 gradi diventeranno 38. Il picco di Caronte e l'Algerino è previsto tra domenica e lunedì e saranno i giorni più caldi di tutta la stagione. 40 i gradi attesi ma la pressione aumenterà e ci sembrerà di vivere sotto i 42 gradi centigradi. L'intensità straordinaria di questa bolla di calore potrebbe avere effetti negativi anche sulla salute di persone sane e attive, non soltanto sui gruppi a rischio come gli anziani, i bambini e le persone affette da malattie croniche. Cosa è giusto fare o non fare in questi giorni di caldo intenso? Lo abbiamo chiesto agli esperti. Una cosa importante è usare l'aria condizionata ma usarla con buon senso ed è una regola ormai ripetuta la temperatura a cui devono essere regolati i condizionatori sia in macchina che negli ambienti dove si vive non deve essere molto diversa da quella esterna. 4, 5, 6 gradi in meno però bisogna puntare soprattutto sulla deumidificazione piuttosto che sul raffreddamento.